Dopo quella che Emiliano stesso ha definito una vittoria senza se e senza ma, la partita si sposta sulla nuova giunta che l'ex sindaco di Bari dovrebbe presentare nei prossimi giorni e la variegata alleanza raccoltasi intorno al vincitore dovrebbe passare alla cassa per riscuotere il credito ottenuto a suon di voti. A conti fatti dei 29 consiglieri della nuova maggioranza, 13 sono del PD, 6 della lista Emiliano sindaco di Puglia, 4 di noi a sinistra, 3 dell'UDC che ha lasciato a bocca asciutta realtà Italia e 3 per la Puglia con Emiliano, più lo stesso neogovernatore. Il che significherebbe, secondo alcune interpretazioni, 4 assessori al PD, 3 alle liste civiche, 2 ai vendoliani e 1 ai casiniani. 8 su 10 assessori dovranno essere scelti proprio tra i consiglieri di maggioranza. In pole position ci sarebbero Antonio Nunziante, l'ex prefetto di Bari, Gianni Giannini che verrebbe riconfermato nella carica di responsabile alle infrastrutture, Dorato Pentassuglia, ex assessore alla sanità e Pino Romano, forti delle migliaia di preferenze ottenute a Taranto e Brindisi. Mentre Sergio Blasi, ex segretario del PD e principe dei voti, oltre 15 mila nel Salento, smentisce di aver chiesto a Emiliano un posto da assessore, che in teoria potrebbe andare ad Alfonso Pisicchio che dopo l'elezione in regione si ritrova a ricoprire quattro cariche, consigliere comunale di Bari, consigliere e assessore metropolitano e adesso consigliere regionale. Nessuna notizia invece da noi a sinistra, escluso un rientro in giunta di Guglielmo Minervini dopo i dissidi preelettorari con Emiliano, mentre l'ex assessore Fabrizio Nardoni è stato bocciato dal voto popolare e dall'UDC che potrebbe portare in giunta Peppino Longo dopo la riconferma. Infine il nodo della parità di genere, in teoria gli assessori donne dovrebbero essere cinque, ma per fare questo Emiliano, che ha solo consiglieri uomini, dovrebbe prendere due esterni rosa, in pole position Loredana Capone che a Lecce ha preso 12.000 preferenze restando comunque fuori e Anna Maria Curcuruto già dirigente del comune di Bari. Più altre tre fuori quota secondo uno schema che andrebbe in conflitto con la norma che impone otto assessori interni su dieci. Il ronc picapo adesso è tutto nelle mani del gladiatore.